I cavalli sono in partenza partiti al comando si porta per linee interne Kubquat con all'esterno Blood Queen in terza posizione Gotix Xtix davanti a Chiamami Boss quindi in quinta all'interno si è sistemato Lulors a precedere I Am Elune quindi Aikidoka ed in coda più arretrata Miss Flabinia cavalli ora lungo la curva con Gotix Xtix che è passato in vantaggio nei confronti di Blood Queen in terza posizione Kumquat con all'argo Chiamami Boss ancora Lulors con all'esterno I Am Elune quindi Aikidoka e Miss Flabinia che si è ricongiunta siamo in retta di arrivo con Gotix Xtix allo steccato Blood Queen al suo inseguimento con più all'esterno Chiamami Boss per linee interne Kumquat più a centropista si propone anche Lulors in progressione a centropista siamo a 350 dal palo Lulors a centropista sta prendendola meglio ma all'interno reagisce bene Gotix Xtix che riparte lungo la corda Gotix Xtix sta prendendo vantaggio nel tratto finale Gotix Xtix si impone al posto d'onore Queen Blood Queen mentre per il terzo Kumquat tappariglia sul palo Lulors rivediamo le immagini con Gotix Xtix che si è ripreso molto bene nel finale imponendosi in bello stile numero 4 dello schieramento avversario in questa debuttanti al posto d'onore il 2 di Queen Blond di Blood Queen mentre per il terzo il 6 di Kumquat appariglia e probabilmente batte proprio sul palo il numero 7 Lulors quindi 4 al primo posto 2 al secondo molto vicini per il terzo il 6 e il 6